benvenuti in questo nuovo video andiamo a vedere come sbloccare lo stile dello scienziato in versione bianca per sbloccarlo bisogna aver preso tutte le registrazioni del visitatore poi recarsi a magazzino muffito interagire e abbiamo sbloccato lo stile bianco guardate qui c'è tutto il dialogo di tutte le registrazioni che abbiamo preso guardate abbiamo lo stile dello scienziato eccoci qua abbiamo sbloccato lo stile bianco dello scienziato stile lo scienziato bianco poi stile sbalzo astrale bianco lo zainetto bianco perfetto comunque questo video finisci qua spero che ti sia piaciuto mi raccomando iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su fortnite lascia un bel mi piace per supportarmi commenta e condividi noi ci vediamo in un prossimo video c'è ragazzo lì